Dopo quello che era successo, feci quello che avrebbe fatto qualsiasi brava persona a andare in cerca di confermi che non era colpa mia. Allora è andata così. Insomma, un casino dietro l'altro, di continuo. Non l'ho costretto ad andarsene. Non credo che sia colpa mia se se n'è andato. Non lo so, le cose più brutte qui accadono per colpa tua. Stavo parlando con lei. Non ti dirò quello che vorresti sentire. La Roberts ha detto che è il medico più incompetente con cui abbia mai lavorato. Ehi, Laverne, cosa dicevi di JD quando era stato appena assunto? Era il dottore più incompetente con cui avessi mai lavorato. Non è colpa mia se ha fallito. Non ha fallito lui, ma tu, tu dovevi essere il suo insegnante. A me sembra che sia colpa tua. Non lo so. Sconvolgente. Sì. Dove vai? Resta a giocare.